Agenti, auto di l'alimentazione, numerosi sospetti diretti verso il denaro confiscato, dobbiamo fermarli. Adesso ci si tratta, guardate! La residenza del cartello. Munizioni in arrivo! Portate i soldi requisiti al deposito. Fuota a terra! Specciato! Mi ha eliminato uno! Aiutatemi! Si! Oh C'è in arresto A terra Vedo uno alla parapitta I soldi sono nel nostro deposito Entrate nel deposito e recuperate i soldi Uomini andate lì e recuperate i soldi Raccogliete i soldi Sospetto eliminato Ok, recuperate i soldi Eliminati i sospetti Altri soldi aggiunti alle prove Raccogliete i soldi Raccogliete i soldi Eccone uno Siamo messi male A tutte le unità I sospetti hanno accesso al nostro deposito Ne vedo uno alla parapitta Sì, l'ho beccato! A tutte le unità I soldi requisiti sono stati abbandonati Sì, l'ho beccato! 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 Sì, sì, sì. Teleferica posizionata Ehi, ce n'è uno alla residenza del cartello A tutte le unità, riportate i soldi sotto la custodia della polizia Attaccare i sospetti A tutte le unità, ci sono soldi a terra a 10.49 Teleferica pronta Andate lì e recuperate i soldi I sospetti hanno individuato il nostro deposito A tutte le unità, i sospetti hanno attaccato il deposito Attenzione, sono stati presi dei soldi dal nostro deposito Proteggete quel deposito A tutte le unità, il sospetto ha attaccato il deposito Stanno attaccato il nostro deposito Attenzione, sono stati presi dei soldi dal nostro deposito Universo 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 Sì, sì, sì. Andate in quel deposito e recuperate i soldi. A tutta l'unità, portate i soldi requisiti al deposito. I sospetti hanno accesso al nostro deposito. A tutte le unità, hanno preso i soldi dal nostro deposito. Polizia, difendete quel deposito. A tutte le unità, hanno preso i soldi dal nostro deposito. Sono su una barca. Sono su una barca! A tutte le unità, i soldi requisiti sono al sicuro. I soldi sono al sicuro. A tutte le unità, i sospetti hanno individuato il nostro deposito. A tutte le unità, i sospetti hanno attaccato il deposito. Fermo lì, non muoverti! Mi servono munizioni! Carica attivata! Piazzo la carica! Munizioni finite! Mi servono munizioni, subito! Attenzione, sono stati sottrati dei soldi dal nostro deposito. Mi servono munizioni! Attenzione, sono stati presi dei soldi dal nostro deposito. Recuperate i soldi dal loro deposito! Vedo un elicottero da trasporto! Colpite quell'elicottero! Elicottero da trasporto! Le vedono una balla finita. Attenzione, sono stati sottrati dei soldi dal nostro deposito. L'emico abbattuto! Andate a sparare! Entrate nel deposito e recuperate i soldi. Sospetto armato eliminato! Munizioni finite! Difendete quel deposito! A tutti le unità, recuperate quei soldi. A tutti le unità, i sospetti hanno attività del deposito. A tutti le unità, hanno preso i soldi dal nostro deposito. Agenti, proteggete quel deposito. Agenti, proteggete quel deposito. Stanno cercando il nostro deposito. Servono munizioni! Sembra il camion comando. A giù vedo un camion comando. Sembra il loro camion comando. Tiro una granata! I soldi sono nel nostro deposito. Sospetto su una moto! Moto, laggiù! Vedo una moto! Mani indietro la testa! Ci sono gli spirri! Giù le armi! Ora! Attenzione! Sospetto! Vedo un sacco! Aspetto a questo di te! Fermo lì! Non può fermi! Sono bloccato! Andate lì e recuperate i soldi! Sospetto in moto! Sospetto in moto! Sospetto in moto! Grazie a tutti. Vieni, guida tu. A tutte le unità, portate i soldi requisiti al deposito. A tutte le unità, il tempo è quasi scaduto. Se avete soldi, portatevi al deposito. Sembra il cambio di comando. Sembra il cambio di comando. Altri soldi aggiunti alle prove. Uomini, vedo un sospetto in moto. Grazie a tutti.